Avrebbe storto denaro ad un imprenditore agricolo, circa 50.000 euro in tre anni, per non prendere parte ad un'asta giudiziaria per due immobili. Poi avrebbe imposto allo stesso agricoltore di assumere fittiziamente un centinaio di braccianti, intascando i compensi relativi alla disoccupazione. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Trigiano, che in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, hanno tratto in arresto un 66enne di Noicattaro, già noto alle Forze dell'Ordine. Il provvedimento è arrivato a conclusione di una complessa indagine condotta dai militari, avviata nel dicembre 2014 sotto la direzione della Procura del Capoluogo. Il lavoro degli inquirenti ha preso il via dalla denuncia presentata da un imprenditore agricolo di Noicattaro, che ha ricostruito l'intera vicenda ai carabinieri. Caduto in disgrazia a causa dei debiti accumulati, la vittima si era vista portare via alcune proprietà immobiliari messe in vendita nelle aste giudiziarie. Per non prendervi parte, con offerte superiori a quelle dell'imprenditore, il 66enne aveva preteso varie somme di denaro. La vittima era inoltre stata costretta ad assumere fittiziamenti a alcune persone in qualità di braccianti agricoli, consentendo all'arrestato di incassare i soldi della disoccupazione che i falsi braccianti gli restituivano sistematicamente a fronte dei contributi pensionistici di cui beneficiavano. Nel corso dell'attività investigativa diverse persone sono state denunciate in stato di libertà per truffa in concorso ai danni dell'Inps, avendo percepito indebitamente circa 230.000 euro complessivi. Dello stesso reato risponderà anche il 66enne assieme all'accusa di estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria.